Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, ringraziamo subito Aoki che ci ha mandato tutti questi bei prodotti, prodotti molto interessanti, prodotti che abbiamo già testato, prodotti che andremo adesso a raccontarvi a recensire per farvi capire di che cosa si tratta. Partirei dal prodotto più interessante tra questi che è il power bank, power bank da 12.000 mAh external battery charger modello PBN28, troverete il link per acquisti in descrizione o nella recensione scritta. Solita scatola di Aoki, completamente riciclabile con manuale e il cavetto micro usb per la ricarica. E poi troviamo questo power bank veramente molto molto bello, 12.000 mAh tagliato all'interno di questo case in plastica, l'amperaggio e il power bank Aoki con il codice. Abbiamo il pulsante Aoki che come potete vedere si accende e poi si accende di un colore particolare in quanto abbiamo il tasto qua laterale. Andando a pigiare si accende il tasto Aoki, vuol dire che è in funzione la nostra power bank. Quando lo mettiamo in carica diventerà rosso quando non sarà carico e invece sarà verde quando sarà carico. E poi abbiamo anche una torcia che potremmo andare ad attivare, quindi funzioni comode se magari siamo in giro, che ne so, in campeggio. Abbiamo questo power bank per ricaricare il dispositivo e abbiamo anche una torcia per andare in giro e magari illuminare dove stiamo mettendo i piedi mentre ricarichiamo il nostro telefono. Abbiamo due prese usb con ricarica rapida e la ricarica, vi faccio vedere subito se riusciamo, ok, come potete vedere è 5 watt 2 ampere, l'input, l'output 5 watt 3.4 ampere massimo, quindi vuol dire che avremo un 2.4 ampere e un 1 ampere, se le usiamo entrambe, se invece ne usiamo solo una erogherà 2.4 ampere, quindi potremmo avere ricarica rapida sui nostri dispositivi. Questo è il power bank, veramente molto bello, molto interessante, mi è piaciuto molto, mettiamolo un attimo da parte. Abbiamo poi un prodotto carino che non è il solito genere che andiamo a recensire, però diciamo che può essere utile per chi, come me, spesso si trova a vivere in casa con i genitori, dove ci sono fratelli, sorelle che vanno a dormire presto, anche i genitori, e deve andare in giro per casa con la torcia del telefono. Bene, questo potrebbe essere una soluzione interessante, in quanto abbiamo questo case che si attaccherà a una presa di corrente a muro, magari possibilmente vicino al nostro letto dove poi dovremo andare a dormire con ricarica induzione. Abbiamo poi questo pistolotto qua che si ricaricherà andando a inserirlo all'interno di questo case. E qui abbiamo un pulsante che ci permette di usare o una torcia, oppure una luce soffusa che diciamo non dà fastidio se c'è qualcuno che sta dormendo, in quanto non si nota, non ci spara negli occhi, e devo dire che ha una funzione molto comoda. Oppure abbiamo la strobo per andare a rompere le palle a chi sta dormendo e svegliarlo, cosa di cui non trovo la reale utilità. Magari se ne prendiamo 10, abbiamo 15 prese a muro in una sala, la trasformiamo in una discoteca. Comunque, scherzi a parte, devo dire, prodotto interessante, carino per chi sta cercando questo tipo di prodotto. All'interno della scatola troviamo solo il manuale degli utenti e nient'altro. Quindi questo è l'altro prodotto che diciamo non è un solito genere che noi recensiamo, però ci piaceva farvi vedere anche questo tipo di prodotto. L'altro prodotto molto interessante che sto già utilizzando, adesso l'ho tirato via solo per farvi vedere cosa c'è all'interno della scatola e come funziona, manuale utenti. Questo bellissimo scatolotto con ben 5 prese USB, abbiamo il trasformatore già integrato e poi dall'altra parte troviamo il cavo con trasformatore e un cavo USB micro USB per la ricarica. Che cos'è questo prodotto? Questo prodotto è un caricatore, come avete ben capito, a muro con una USB a ricarica rapida, ricarica rapida, quick charge di Qualcomm, che vuol dire che arriva fino a 12 Watt 1.5 Ampere. Quindi qua effettivamente abbiamo la ricarica rapida anche per esempio per Note 5 che va a 9 Watt 2 Ampere. Quindi un dispositivo molto interessante, io stavo utilizzando un dispositivo di Blitzwolf con cui mi sono sempre trovato benissimo. Questo mi dà la possibilità di caricare in più anche il mio Note 5 con ricarica rapida, quindi sono andato a sostituirlo e devo dire che non fa fischi quando lo andiamo ad attaccare alla corrente a mettere in carica dispositivi. Se non c'è nulla in carica non fa nessun tipo di rumore. È un dispositivo molto interessante che a me è piaciuto molto e sto utilizzando tuttora, quindi assolutamente non posso che ringraziare Aoki. E poi infine abbiamo quest'ultimo dispositivo, molto interessante anche questo. Si tratta infatti di, come avete visto dalla scatola, un portable Bluetooth stereo audio transmitter and receiver. Dentro alla scatola troviamo questo agigino molto piccolino e poi troviamo il manuale delle istruzioni e questi cavi, veramente tanti 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 cavi, cavi molto molto utili per di più. Come funziona? Innanzitutto questo ha una batteria integrata, poi abbiamo un cavo USB, micro USB per andare a ricaricarlo, abbiamo un cavo jack audio, jack audio per andare ad attaccarlo a delle casse stereo, per esempio quelle che ho in camera io. Abbiamo un adattatore ancora più corto, jack jack per andare ad attaccarlo direttamente, magari lo stereo senza avere cavi che si impenzola o che cosa. E poi abbiamo invece un cavo AUX per per esempio Dolby che abbiamo in sala o quant'altro. Questa funzione mi è risultata veramente comodissima, soprattutto per l'auto, in quanto io in macchina ho solo, non ho il Bluetooth ma ho il jack da 3,5 per andare ad attaccare alla mia macchina il telefono per andare ad ascoltare la musica. Con questo ricaricando questo agigino che potrà essere ricaricato anche in macchina tranquillamente quando si scaricherà, accendendolo e andando ad attaccare il mio dispositivo via Bluetooth a questo ricevitore e andando ad attaccare col jack audio, quindi io avrò il jack audio inserito nella macchina, il jack audio inserito in questo aggeggino, potrò andare a riprodurre tranquillamente la musica dal mio dispositivo, così come anche le chiamate e quant'altro, sullo stereo della mia macchina senza andare a utilizzare il jack audio direttamente sul mio telefono ma collegando il telefono via Bluetooth a questa aggeggino. Devo dire che mi è piaciuto molto anche per il fatto che la batteria mi è durata praticamente una settimana, dati gli spostamenti comunque abbastanza brevi, non sono mai stato più di mezz'ora in macchina, quindi non l'ho mai utilizzato più di mezz'ora di continuo, quindi fai al giorno circa un'ora, un'ora, ma è durato praticamente sette ore durante la mia settimana e devo dire che è stato veramente comodo e utile. Adesso lo sto utilizzando invece in camera mia in quanto io ho uno stereo con un po' di gas in giro per la mia stanza, stereo che però non funziona via Bluetooth ma solo tramite jack da 3,5 jack audio e così facendo praticamente non ho più bisogno di attaccare sempre il jack al mio dispositivo ma mi basta lanciarlo via Bluetooth e collegarmi a questo adattatore trasmettitore via Bluetooth e il gioco è fatto. Spero di avervi elencato bene tutte queste caratteristiche e questi prodotti molto interessanti. Troverete i link per acquisto in descrizione, se volete qualsiasi altro tipo di domanda, volete farci qualsiasi altro tipo di domanda su questi dispositivi fatecele pure nei commenti, io questi dispositivi li ho con me, li ho acquistati, quindi assolutamente fatemi sapere cosa ne pensate, qualsiasi domanda noi ci siamo. Ciao ragazzi da Daniele per Spazio Hightech.